Prego, da questa parte si accomodi. Grazie. Salve, ne avevo l'appuntamento? No, dottore, vengo per la prima volta. Il mio dentista, disgraziatamente, è morto. Da tonne non ho fortuna con i dentisti. È già il terzo che perdo. Ah, non è incoraggiante, ma noi... Beh, non è detto. Saremo a vedere. Grazie, grazie mille. Ecco cosa mi è successo. Un piccolo incidente. Mangiando le lenticchie. Mangiando? Le lenticchie. Le lenticchie. Tutta colpa di domestici, eh? Avevo lasciato un sassolino e mi si è spezzato un dente. Capisco. Mi dispiace, va bene, se vuole avere la compiacenza di accomodarsi, ci diamo un'occhiata. Mi mostri qual'è il dentista? Adesso glielo mostro subito. Ecco, questa. Molto graziosa, non trovo? Le piace? È molto bella, veramente molto bella. È l'ultimo lavoro del povero defunto. Ah, è l'ultimo dentista prima di me. Prima di me, prima di me. E naturalmente deve restare fra noi. Segreto professionale. Benissimo. Senta, qui c'è da rimettere un dente, ma questo richiederà qualche giorno. E ne ha un bisogno urgente? No, no, no. Ho la numero due, quella di tutti i giorni. Mentre questi sono i denti della domenica, eh. Se volete darmi il suo nome e l'indirizzo, ci diamo un'occhiata. Sì, capiamo dove mandare. Tieni. Signor Dong. Ding. Ah, Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong. Via dei cipressi 17. Ah, e va, Ding Dong. Via dei cipressi 17. Gnam 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 da riparare. Come gnam 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 da riparare? Sono parole convenzionali che scrivo per me. A lei non farebbe piacere se qualcuno per caso aprenda la mia agenda e trovasse signor Dong Ding. Ding Dong. Sì, Ding Dong, dentiera da riparare. Assolutamente. Queste sono parole che capisco solo io. Chi apre la mia agenda è un profano e non capisce nulla. Molto ingegnese. Grazie. Molto ingegnese. Allora, qui c'è da rimettere il secondo morale superiore sinistro. Lei farà un lavoretto accurato, eh? Lo spero per lei. Dai, dai, dai. Allora io, dottore, ho bussato, dottore. Oh, sì, sì, ho bussato, ma per favore, piano, che accompagni il signore di là, eh? Prego, da questa parte si accomodi. Un attimo. Quando la leggerò? Che cosa? Il gnaugnaugnaugnaugnaugna. Ah, direi i sette otto giorni. Ve la manderò io a casa. Arrivederci. Addio. Arrivederci. Addio. Arrivederci. E pure occhia. Eh. Addio. Arrivederci. Grazie.